Cesena e la Romagna perdono uno dei suoi più grandi artisti. Il pittore Alberto Sugghi è scomparso sabato pomeriggio a Villa Toniolo di Bologna dove era ricoverato. Nella sala del Consiglio del Comune di Cesena è stata allestita fino a domani alle ore 11 la camera ardente del maestro. Domani pomeriggio la salma verrà trasferita a Ruffio, frazione di Cesena dove si svolgeranno i funerali in forma strettamente privata e dove sarà sepolto nello stesso cimitero dove riposa sua madre. Nato il 5 ottobre del 1928 Alberto Sugghi è stato uno dei protagonisti di un'area pittorico figurativa più conosciuta come realismo esistenziale nel quale era uno dei massimi esponenti. Il suo talento pittorico emerge per la prima volta in una collettiva tenutasi al 1946 a Cesena sempre in quell'anno soggiorna per un po' di tempo a Torino dove lavora come illustratore per la Gazzetta del Popolo. Nel 1948 si trasferisce a Roma dove rimane fino al 1951. Qui conosce diversi artisti fra cui Marcello Muccini e Renzo Vespignani che fanno parte del gruppo di Pontaccio. Questo incontro risulterà fondamentale sia dal punto di vista umano che artistico. La sua pittura si caratterizza per l'attenzione dedicata ai temi dell'incomunicabilità, dell'estraneità, dell'alienazione, del disagio sociale condito da una tavolozza scarna ai limiti della macronomia. Nell'arco della sua produzione artistica Sugghi non abbandona mai il figurativo ma lo arricchisce rendendolo ibrido di fermenti derivanti dalla sua ammirazione per l'arte astratta e la sua particolare espressività. Dai suoi quadri affiorano una riflessione profonda sul tempo e sull'esistenza colta nei diversi momenti il che lo presenta come un artista estremamente contemporaneo. Nel 2007 Cesena ha dedicato al maestro una mostra celebrativa dei suoi 80 anni alla biblioteca malatestiana. Nell'anno successivo viene insignito sempre nella sua città con il premio Malatesta Novello.